Buone notizie per la casa di riposo Fossombroni, conosciuta da tutti gli aretini come Casa Pia. Nessun ospite, infatti, è contagiato dal coronavirus. L'unico paziente che, pur essendo asintomatico, risultava positivo al Covid-19, è definitivamente guarito. Mercoledì 15 e lunedì 20 sono stati, infatti, eseguiti i due tamponi ed entrambi hanno dato esito negativo. Così, per il 66enne, l'incubo iniziato lo scorso 8 aprile si è concluso. L'ospite era stato isolato in un apposito ambiente all'interno della struttura della casa di riposo, preventivamente sanificato e dedicato all'emergenza. Una stretta collaborazione tra personale sanitario della struttura e l'unità speciale di continuità assistenziale dell'ASL ha permesso di monitorare quotidianamente i parametri e di garantirne vicinanza in un momento tanto delicato che ha trovato la propria positiva conclusione nella mattinata di mercoledì 22 aprile con l'ufficialità del secondo tampone negativo. Un grande applauso e una forte commozione ha commentato Stefano Rossi, direttore della casa di riposo, hanno accompagnato l'uscita del nostro ospite dall'isolamento e il ritorno alla serenità all'interno dell'istituto. Adesso sarà fondamentale mantenere la stessa attenzione e concentrazione che ha caratterizzato il nostro lavoro sin dal primo momento della diffusione del virus.